Ho deciso di partecipare a questo workshop perché mi sembrava un'ottima occasione per migliorare nella scrittura di sceneggiatura. Volevo migliorare nella scrittura e nella parte di sceneggiatura che è secondo me la parte che mi manca ancora dato che mi sono concentrata principalmente sulle parti tecniche come ripresa, post-produzione, pre-produzione. Ho deciso di partecipare a questo corso per approfondire delle tecniche di scrittura specifiche del mondo del cortometraggio e dell'audiovisivo. Sicuramente mi aiuta a mettere un occhio un po' più analitico sulla storia, un occhio un po' più tecnico sulla storia che mi è nata in modo più impulsivo, meno teorico. Spero che il mio progetto si possa sviluppare partendo da quella che era un'idea, un input, un concept iniziale per diventare qualcosa di strutturato, di più spendibile nell'ambito delle produzioni, quindi di avere le carte in regola per diventare un progetto concreto. Oltre agli insegnamenti tecnici è anche molto importante aumentare il proprio networking, quindi questo workshop si sta rivelando molto utile anche da quell'aspetto, nel senso che sto conoscendo altri aspiranti registi e sceneggiatori come me. Se no finisci sempre un po' per parlare da solo, insomma, per autoconvincerti o che fai schifo o che sei troppo bravo, invece la strada è sempre un po' a metà probabilmente. Noi siamo molto felici e molto grati che il Trentino Film Commission abbia accolto questo workshop, perché è un workshop che è diventato internazionale, quindi anche i partecipanti possono in qualche modo conoscere la realtà europea, e questo in qualche modo rafforza tantissimo la fiducia nelle storie, la capacità stessa di evolversi e di continuare, di credere in questo mestiere, di credere in questo lavoro.